musica 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 ok andiamo a vedere che succede se non compriamo l'armatura arcao ok sta andando da solo musica ah vabbè non ho comprato di direci figo no c'è una armatura normale eh che pesce però il capellone l'ho comprato oh 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 questo è patetico odio aspetti ah si che si aspetti se cioè si è detto prima non ha problema eccolo cavallo senza armatura cavallo eh c'è è morto il cavallo ah e quindi sono morti tutte e due quindi questo è se non compie la natura cavallo ok e il cattivo si è eletto la principessa felice e contento di riportare beh il final end comunque questo era Dead Sea Quest un giochino così tanto per fare voi mi piaceggiate ci vediamo nel prossimo video Ciao a tutti la prossima Ciao ciao